Bene ragazzi, eccoci a un nuovo episodio di Tales of Arise. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Ah si, dobbiamo andare a dormire, così vediamo come va avanti la storia, al fine di cante dovremmo salvare la Lord prima della giustizia, no? Sicuro. Ci sono i Dannons, i Darkwingi sono liberati. Sì, la città potrebbe essere in ruinesi, le persone sono riuscili da scopi. Questo è il posto che Beifon ha detto che Dedeim potrebbe riconoscere il Signore. Mi chiedo cosa farà con lui. Beh, beh... ... 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 Scusa, voi non avete ammazzato gli altri, non ho capito. E' un'energia astrale, dal vento. Bene, diventerà una nullità. Un'energia astrale. Un'energia astrale. Un'energia astrale. Un'energia astrale. Il nucleo primario dove sta del vento? Ah, vedi, ci avevano già i cosidi scolo. Non danno manco fastidio. E mo' chi se lo prende? Un'energia astrale. Quindi faceva tutto parte del piano della Lorde. Ma niente male. Un altro che lavorare. Ho preso l'energia astrale senza fare una mazza. Ho preso l'energia astrale. Ho preso l'energia astrale. Ma perché fa così quella quando ti ho trovata finalmente? Chi è? Finalmente ci spiegano qualcosa? Non mi ha da arrabbiare. Ma perché? Che abbiamo qui? Potrebbe essere la ditta di Demo? Ahahahah. Sperto che avevo scoperto tutti da l'esistenza. Credo che c'era un survivor dopo tutto. Oh 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 Rynwell I'll kill you I swear I will kill you Ma che fa questo sce Ma se l'ha bloccato l'alvo non era sto granché di attacco Non siamo come loro Ah non c'era anche questo Ah non c'era anche questo Ma scusa c'è la magia Non mica devi passare attraverso di lui Ah E tutto questo il Lord sta alla guarda la scenetta E infatti è vero Potresti essere assorbita anche tu Vabbè che loro non hanno mangiato il frutto Ma veramente tutto questo tempo Ma per da presto sti due Non 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 Eh infatti Ma tocca a lei Non 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 La Devevo volevo cambiare l'armatura terra ero e non ce l'ho, terra e terra troppo basso qua non so se bisognerebbe mettere... un rinno ma ha spinto in alto ci dà una... non sa più ma si è... si è ricaricato di vita questo, come ha fatto? no quindi è... pericoloso stare dietro no 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 ma che cavolo fa che ci blocca? no no ma l'abbiamo ancora assordito? no 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 grazie a dio un assalto Ah è andato al limite Montiamo la difesa La gente è qua Io l'avevo parata comunque Ma che paralizzo Ma che cavolo fa? Mi possiamo curare Eh ma sono cavoli Oh ci ho messo gli oggetti E' già morto Dei Mi sono salvata con il coso Io ho messo l'oggetto E' già morto Eh, sembra che non muori prima. Quando rimani senza più conticura stai proprio alla frutta. Non, non, non. mh 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 Alfio mi sta finendo tutte le... io cosa l'epa esca Oh, grazie a Dio è morto! E rimarrono senza soldi? Solo vuole qualcuno che mi cura, che mi cura. Rin... Ancora là. Ah, ma come glielo spiega? Sono spariti... diventati nulla. Non c'è nessuno. Tutta la matri ha un lavoro. Si ha permesso di essere capito, per cui si potrebbe rilare i Danans in una frenzio e rilare loro di loro energia astral. Si ha scoperto quasi tutti in la plaza, inoltre Dedeheim. Dedeheim è morto. Tutti. E i Darkwings. Più tutti i nostri compagni e la resistenza. Come potrebbe succedere? Avete mangiato qualche frutto in questi giorni? O l'altro? O l'altro? Gannabelle erano orribili. Ma la madria ci si sembra di essere sainte. Penso che si è veramente tornata in una scuola. Dobbiamo mettere un final di questo, prima e sempre! È una sola che mi strega. Sì. Ciò che ha fatto non si può essere perdita. Da quando non l'ho ammazzata? Sì, Vi ho visto quello che mi ha fatto a quelli, ma la 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 è launica che mi rimane per andare. Non riesco a perdere la la la. Sì Eh ma prima di me farlo Sì 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 Ha fatto tutta sta trafila per vederla morire E lo vuole negare Magari puoi levare Cufo Eh vai Chi sarà prendi mano a una situazione Che questi parlano e basta Sì Ma io devo salire comunque Quello stava a 30 Ah giusto Prenderve in uso per non Per non far impazzire la strega Eh come stavo? 29 29 Chi che sta a 28 Ah quindi Sare articolative Non so se non ho manco visto Sì E'a da l'Ezionista. ero l'unica che mio padre e i altri ero l'unica l'unica cosa che ho vissuto l'unica cosa che ho potuto vedere era la croce di un lord brillante nella scuola era una maggiore scusate Rima quella moglie ha trovato la existenza sufficiente per invadire il territorio di un altro lord probabilmente ha fatto solo per diventare si è più forte è il tipo di moglie che è in retrospecchio mi ricordo che la stia si trattava la sua un monstro mi ricordo pensate che mi sono un monstro? Rinwell ovviamente non pensiamo che sei un monstro tu stai mi potrebbe essere potremmo tenere ma è la sua che ci sono che non è la tua la eh io mi vado a curare il giovane ma infatti forse mi posso curare anche? eh non ci sta niente qua dove esco? ci sarà ancora una locanda ah io qua c'ero andata sì eh c'era l'ascensore che non mi faceva salire o scendere non so come riposare questi mostri si fanno sempre più difficili quindi i punti cura non ci arriviamo scendere non ci arriviamo ah scontro ce n'è uno ok andiamo a disanguacci no non volevo comprare gli oggetti sono rimasta senza soldi segni della vita segni della vita oh e questo è nuovo? sono due nuove no ok forse li devo comprare prima grazie ok 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 ecco ok 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 capitato Sì, sei che sai come si stia a un'arco? Spentato la mia vita chiamato alla parte di un'arco di un'arco o altro. Sì, lo conosco il mio giù. Non lo so che è vero, è meglio che ci sia il bambino e non resta. Oh, tu sei stato in acqua prima? Devi un'arco come me o tuoi sienti prima che si fa in acqua. Ci sono perdite il tempo. Sì, siamo in... No, è più così. Il nome è Mahavar. Dessere un po' quando sei pronto e ci siamo arrivati. Così. Dove ci porta? Facciamo una guerra sulla nave? Non credo. Ci porteranno un posto. Cioè, loro volevano governare una nave del genere. Dove non hai? Questo è come un sogno come true. Non ho mai avuto a capta in una nave, non ho mai pensato che ho avuto una scuola come questo. Il piacere è il nostro, credo che... Of course, ci siamo. Ci sono troppo pesce. Inoltre, questo nave non c'è nulla di noi, Salty Scalawags. Ci hanno un buon cuore... Dovete sapere se ci sono alcuni da questa nave? Non posso dire, per sicuro. In un'altra parte, visto che non è dovuto essere qualcosa di un altro castello, credo che probabilmente non lo faravano. In un'altra parte, sarebbe davvero sorpreso se i Renans potessi... In ogni caso, sarà un po' di tempo prima di arrivare. Sì, fino a poi, sei libero per fare qualcosa che vuoi. Troppo sciolto, no? Che... Ma devo parlare con tutti? Due palle. Ah, certo. Mi ha mai scoperto di Lenagas. È sicuro di assicurare che hanno conosciuto tutto. Ma non so perché hanno chiesto... Potremmo si vedono quello che sta succedendo come parte della nuova... Anche quello che Allmaidria ha fatto? Ha davvero avuto il punto in cui le sue azioni sono vedi come normali? Non per... e per amassare questa energia, gli scambi sono necessiti per la ricerca. Quindi è contro la intenzione dell'ordine. Quindi perché Allmaidria ha fatto questo? Dobbiamo ricordare che il tempo si riuscita nel contesto del crown. Potremmo la sua mano era forzata. E' una forma di accruire energia astrale più velocemente e in maggiori quantità, che per il lavoro di scambio. In questo modo, nessuno potrebbe pensare, che qualcosa come l'hollowing, potrebbe riuscire quando... C'è diventare la sovranca Renna davvero così importante per il Signore? Ovviamente. È la più grande... In questo senso, almeno. Non sono davvero così sorpreso, che Allmaidria ha resorzato a vedere. È assicurante che senti la stessa forma. Mi rischio che la quale non ho mai fatto qualcosa di simile in Menencia era per la mia maniera di ambizia. Se non vuoi essere ricordati del tuo pasto, potremmo essere riuscita. Tu pensi molto molto di me. Mi rischio che devo rispettare di assicurare. Non sono quasi così virtuoso di una persona... Se è così... ... 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 Discussione al quante inutile. Sì, e non c'è ancora una cosa che succede in Nia. Come un lord, le aspettazioni per Almadria sono già abbastanza bassi, ma la forma che si trattava la vita humana... Sì, e non era come se la situazione... Tu chiedi Dedein. La scena che ho iniziato a combattere, è perché della mia anglia per le atrocità di Renan rule. Ma poi ho incontrato a Xion e i bambini di Menencia. È ancora più pesante, ora che abbiamo bisogno di rispondere a Danans, come... C'è stato che i Danans erano i quelli di Dedein per un momento, e i Renan erano i quelli di Dedein. Certo. Non ci sono mai a condividere i Renan rulei per noi, ma niente non è finito con... D'accordo, anche se si tratta di un bel pollo di halle di Dedein per un momento, potrebbe essere capito scoperto di Dedein, ma questo non perdere 300 anni di opressione. Penso che magari è l'altra cosa che ho trovato con il nostro sogno di tempo in... Anche se le sue motivazioni non erano pure, Doolim ha un buon cuore. Non si incontrava alle quali la Madria ha fatto. Tu non capisci. Sto dicendo che si va più profondamente da questo. Questa città che viviamo... Non è solo qualcosa che i Renans invadono. Mi ricordo una storia che Rinwell mi ha detto. Lei ha detto che prima che i Renans invadivano, noi Danans avevamo il nostro sistema classico. Siamo i quelli che lo dividono. Lo vedo in Dedeim. Si voleva regalare... Lo vedo in Dedeim non era sempre... Ma quando il tempo si è andato, e lui e i Darkwingi combattono i Renans... Inizialmente ha cambiato. Penso che ciò che sto parlando è... Se ciò che vengiamo i Renans, ma torniamo tornare alla forma che ci stavano prima... Ma questo mondo non è quello che vuoi creare... Potremmo non. Ma per te raccontare la verità... Tu hai la promessa a Megalvo. Tu è la casa... Lo vedo. Il mio fratello... Il mio fratello è vero... Il mio fratello è vero... E poi... Cosa? Io? Tu e... Non è vero. Ok, allora mi parla per te. Quanti altri Renans e Danans... Non so se non che direi... Spettaculare. Beh, credo sia tutto per quanto riguarda... Non vedo cosa che ti stai... prescription quando stai... Non so sveglando la guessabile le conseguine... Non so se ASS Elon In fuera... Cosa sono le sentenze... T Che il suo rischio si sottopera... Non so se i piuttosto in fronte... La conta bloccava è una Bizzera. Che la nostra rischio... Si non... Però anche finalmente sono lato... I already約ito la quinta модie. Non so se... Si la massa sidこんな persona è Puraffa... Io credo che il mio vecchio è stato scoperto da... Sì. Da che ha morto, ho pensato su quello che è stato. Io continuo a andare... E, per esempio, magari sono solo solo... A volte, non importa quanto mi spiego, sono ancora... E poi c'è tutto... Ho stoppito di matare Almadria. È stato veramente il vero di fare? Mi sento che sia un scopo... Sei non la sola. Io continuo chiedendo... Come si pensi... Cioè, come Zephyr avrebbe... Sì, credo che sicuramente abbia stoppito. E' proprio quello che hai fatto, Law. Credo che... Alfin... Zephyr non è il peggiorno giardistico per farcire. Siamo... Si sembra un... Sì, credo che Law è ok? Se sei preoccupato, non ti chiedi lui a te stesso. Sì, credo che... Magli che sia un'apologizzazione a lui anche. A noi anche? Beh, sono un po' di lieci. Mi sono scontato a tutto, ma solo a mia propria rivoluzione. Non ho mai... Ci sono cose che preferiamo mantenere a noi. Quindi, se cosa se hai qualcosa di scoprire? Non è un po' di quello che hai fatto. Ma non è quello che mi chiedo. Sì. Sì. Io l'ospiro molto a lui Alphen, non posso... ma non è solo lui. Ficco a me... Io l'ospiro del lord che uccelo i miei amici, e io l'ospiro i Rennoni, che ho tenuto di spettare. E ancora, Sesslodius danans si stanno costruendo come è un modo normale di vita. E Mahag Sare ha persone come Dedane. Ma poi ci sono persone come Law e Shion. È tutto tutto troppo. Law non ha detto che hai dovuto fargliere Almadria. E' solo naturalmente che tu avessi i tuoi fai... Ma cosa? La ha lasciato casa per quanto è il suo padre. E per il risultato di questo... Beh, credo che la la ha spaventato un po' di tempo pensando su come non si è mai riuscito a fare le cose riuscite. E se mi chiede a pensare, la ha matto a Ganabelle non ha lasciato la riuscita a lui. E ora è freddo che tu farai qualcosa... Freddo? Cosa che succeda a Almadria quando è tutto tutto, è per te. Allora, solo pensi per me. Ok, diciamo, um, back then, after the fight, credo che davvero mi ha fatto Shion mad. Non lo so, però... credo che... non mi sembra di capire... Shion... può essere un po' difficile da rompere. È proprio quello che ha detto suonare essere una fuori di fortuna. Da dove è venuto? Non mi sembra, non mi sembra di capire... non mi sembra di capire... Se non si le più, si vedi un po' di più. guardando un attenzione per l'almadria? guardando l'oceano l'oceano? sì questo mondo è pieno di meravigliosi naturali l'alberto e le pietre bianche di Spad Menencia ha il lago di morte e Nia ha il ruino e non sarebbero qui se non sarebbe per questo contest diciamo che abbiamo iniziato a mettere un stop per il contesto per bene cosa ti... tu prima io... voglio credere che la coesistenza è proprio... è vero per tutti noi che continuiamo a combattere se Mennencia sì credo che sia buono un mondo in cui tutti si potremmo tu sicuramente non puoi dirvi da quando ero ho guardato ma ho visto molto e ho visto delle cose ho visto delle cose e delle cose in questo mondo e delle cose anche e delle cose anche e delle cose anche non sono solo e delle cose 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 Do you still not remember your past? No, sometimes it feels like I can almost remember. The mask keeps you from remembering why you have the mask in the first place. It's a little ironic, isn't it? A little. Well, it won't be long now before you're rid of those thorns. Only two lords remain. And once you have their master course, you'll be able to create the Renesalma, right? Then you can... Xion? Sorry, it's nothing. You're right, though. I never could have made it this far on my own. I have everyone to think... Don't worry about it. Yeah. I wonder how much longer it's going to be before we catch up to Almadria. I'll ask Mahabar. I don't know how much longer it's going to be before we catch up to Almadria. I don't know how much longer it's going to be before we catch up to Almadria. I don't know how much longer it's going to be before we catch up to Almadria. I don't know how much longer it's going to be before we catch up to Almadria. I don't know how much longer it's going to be before we catch up to Almadria. I don't know how much longer it's going to be before we catch up to Almadria. No, c'è te quando è grande. Ma è proprio così? Io pensavo che anche andavamo con una nave piccola. Mi abbiamo affiancati. Un po' bussiamo. Evidentemente, non dovrei aver scoperto il vermino. Alessia già, mio amore? Non preoccuparti, perché tu avrai abbastanza a prestare. Ok, mi sa che Rinovel c'ha un attacco contro i draghi. Mi sa che devo mettere lei. Ci rimangono pure attaccati. Pensavo che... andavamo là e se ne andavano. Ci sarà un posto per... per recuperare i punti cura. Sì. 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 Però, per te la verità, sono un po' scarede. E poi, ancora, l'idea di non fare qualcosa perché mi preoccupa, mi preoccupa ancora più. Sì. Sì. Io direi di cambiare personaggi. Andavo a vedere se è uscito qua che... 200, non credo. 300. 200. 800. 400. 200. Ah, lì. 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 Orai. Lì. 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 Ok, abbiamo la chiave della scensura. Lì. Dove dovrei andare? A livello 1 o a livello inferiore? Allora, questo è a livello inferiore, livello 1, dovremmo fare livello 2, c'è un gufo. Vediamo di qua che ci so. Allora... Non c'erano questo? Il corpo? Sì. Ma il mio guido è che l'enginio viene da un starship. Un starship? Come uno di quei avessi usato per andare a... Certo. 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 Oh, madonna mia! Non lo sopporto! Certo. Oh. Certo. Oh. 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 là c'è qualcosa per ripostare di prego siamo arrivati là c'è il mostro sì ma io voglio qualcosa per curarmi allora il secondo siamo al terzo vado a ripassare qua devo andare all'altro oh grazie a dio no vabbè mi hai fatto arrivare senza niente è possibile che potrebbe essere sul ma io credo che stai aspettando per noi qui ci significa che probabilmente ha chiesto un posto dove si avvicinare be careful ragazzi io ho venuto da una famiglia di danon magi non so dire ma è un artista di astra già sappiamo che specializza in controllo di energia astrala ma anche di questo potrebbe provare a scocciare i monstri Sì, per la mia moglie, la vita è solo una piaccia per giocare con le giocheremo. E' un'altra cosa? C'è lì! Almadria! Ma solo solo? Guardatevi. La probabilmente sta a fare qualcosa. Mi sono piaciuta di aspettare. Oh mio, e vedo che tu è venuto anche bene, Dannin Witch. Almadria. Cosa è questo? Mi pensavo che non potete prendere la visione di me. Andiamo, piccola, mi mostro la potenza di questa sottotura. Inoltre, andiamo a andare in alto come una roba che sei. È sufficiente! Ma come puoi riuscire mentre causando dolor per molti altri? È il modo dei che hanno un grande potenza. È il modo che noi stiamo. Ci sono dei potenza hanno un esempio. E ci sono dei che non hanno forciato a obiettare. Anche voi due sembrava che sia la forma che queste cose stavano. E credo che questo giustifica le vostre azioni? Tu trasporti tutte queste persone in un paese di caldo! Cosa scoperta. È solo natural che la fate di un uomo differa dalla sua proprietà. Molto bene, accettavo che avevo fannato le flamme un pochino in fine. Ma non avrebbe mai avuto un pochino se non avessi un pochino. Ma non avessi un pochino, non avessi un pochino, non avessi un pochino. Inizialmente, era il loro loro vero che l'avevano per loro. A dire che era tutto il mio errore, è semplicemente la scoperta ai nostri piedi. Nessuno è perfetto, tutti abbiamo scoperta nel nostro cuore. Ma le atrocità che hai fatto, sono non pensate! Il tuo cuore è nulla ma scoperta! Cosa un pochino! Per pensare di volta e volta di nuovo, potrebbe chiamare Ren e l'autorità, senza un'inclina di come funzionare. E' un'ignoranza così, è perché il tuo amico ha diventato 300 anni. Almatria! Beh, se non è così dolente! Qualcuno è rimasto stupito? Cosa? Cosa un pochino! Non avessi mai avessi, non avessi mai avessi un pochino di scoperta come i compagni. Se non lo so, non avessi mai avessi, vorrei chiedere la sua noble linea. Oh, come troppo l'amico ha fallenato! Un'attraggio come te sei, non avessi di essere chiamato un lord. Non è nulla di compare a Dolhalim. Rinwell. Non è mai avessi mai avessi e riuscire, come le persone hallowate! Ha! Cosa importa? Sei descritto da quelli che aiutano il potere e il知ato entrosti a loro per farlo. Tante famiglia potrebbero essere scoperto, ma non ho. Il知ato e il potere è tutto mio per comandare. E ora ti vedrai che ci manda addosso. Drago? Drago. Spessione di Drago. Spessione di Drago. Spessione di Drago. Rinforzato. Interessante. Ed è di vento, quindi... Ah, vai! Meno male che ci sta Kisara, sennò... Buon appetito! Quindi si mette su, però. Trento. Ah, quindi... che cos'è? Ma scusa... Che cos'è? Che cos'è? Ma c'è la parte debole, che è la coda. E ci fa andare. Oh, non... ci fa andare anche a me. Sorbia, sorbia! Mannaggia, non ce l'ho fatta di nuovo, una magia! Vabbè, mi allontano io, tanto si vuoi me. E se fa un tornado? Ciao, ciao! E stai fermo! E stai fermo! Ok. Il problema è che non posso assorbirlo due volte. Eh, mettiamo la difesa del gruppo. E stai fermo! 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 Oh no 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 ma sta facendo la magia con la mhmmm ok alzatevi e scappate quando prende a voi ehi questo che sarà attacco finale di sto stronzo niente non serva a niente ah è riuscita la tecnica per farlo non l'ho visto fa una specie di ma che ci fa ci abbassa tutti basta che cavolo è infinito lo so è distrutto no no ehi ci fa di nuovo l'arte magica mannaggia speriamo che ci fa solo con la ma fa fuori il drago prima comunque dobbiamo fare qualcosa per aumentare il pc non ce la faccio aspetta innaggia tutti ce li sta facendo fuori innaggia la miseria devo rimanere fuori all'altra ok ok allora Questa ha fatto di rumo la combo? Devo stare attenta, devo vedere che deve schiacciare. A posto. Mi è fregata la seconda volta. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto pure almeno il drago. Uè, è caduta. Drago? Drago se l'è da da? Ah no, non è scappato, è semplicemente andato a schiandarsi più avanti. Boh? Eh, ma io stavo scherzando. No, non mi fare fuori. Ah, eh, love. Aspetta. Cioè, dice tutto questo... Vendengo la sunguigna. Non lo so. si gradisce non lo farà manco morta che cos'è quella cosa? se la sono presa? è arrivato un altro lord aiutami ti mi do male? vabbè dov'è? che ha fatto il volo di 3 metri? ma questo ancora un po' se n'è accorto chi è? ma perché c'è la connessione? e perché cammina così? vieni, c'è l'altra spada, bello dai, spezzalo perché c'è paura della maschera? vale, pure lui è un lord vediamo che simbolo non si vede niente quindi si conoscono io non mi avvicinerei non mi avvicinerei non mi ha fatto niente ma quell'altra l'ha infilzata ma questo non gli ha fatto niente oh, si è presa Shion ok, lui ha acqua abbiamo capito che fa? è tagliare la nave, sicuro oddio mio ok, abbiamo capito che si frega no Shion oh, sparisce cacchio cacchio lo tocca si sente dolore che è successo? tada tale invece quell'altro lord non sente dolore voleva dire che l'avano fatta apposta la maschera è realmente sovrano questo c'è il teletrasporto sempre se loro non muoiono prima perché non ho fatto una breccia nell'oceano ok comunque sto boss era tosto mi raccomando formatevi prima quindi lui era uno dei test per diventare lord lo posso tornare a casa ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E che devo fa? Ah, quindi in realtà è... E di quell'altra stirpe... Non mi fa andare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E come si fa? nobbi wants to explain anything to me they just threaten and harass me instead what does everyone think I am some sort of talking pet they're the ones that dragged me all the way up here in the first place bastards I shouldn't have bothered coming out I might as well head back to my room Grazie. Sì, era consapevole oppure no? Sì, aveva un modo diverso, quindi non dovrebbe essere lì. Ok, qualcosa è andato assorto. Decisamente storto. Sì. 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 Alfin. Ma non si è capito niente comunque. E non sono finiti. Quanto tempo è stato fatto? Certo, Shion! ce la farò a prendere la sua d'ardente non lo so vediamo non sapiccia più ma se scomparse avrò più sciano non ci sta non ti risponde perché l'hai toccata e ti sei fatto male lei si è offesa e si è ripresa la spada ma insomma lui dovrebbe essere il lord di che ma è una fece di anzi mare è cane non ci sta niente non corre stavante non ce la fa non se la fida comunque senza maschera è bruttissimo guarda il suo fascino ecco allora vediamo un po' acqua quindi dovrei mettere attacchi di fuoco ok no 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 va ah ma congelata mi fa l'attacco forse no 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 Eterno devastation Slasmo shock Devastate Eterno devastation E' una mezzapippa senza spada Senza maschera Che è? Sono arrivati gli altri Eeeh, sono cambiati C'è un po' di un pezzo C'è un po' di più C'è un po' di più C'è un po' di più La città Chi sarà già là Flinwell O cui siamo? Il Gannis Heros Il mondo di Volran, ricorda? Passato con le vasi direttamente in fortale Un'occhina di raiare Sì, sembra molto convinto. Come ti riesci a dire che... Si è esasta una... cippa. Dai, fatti forza, su! Fine della vendetta. Vediamo che ci dà. Vi ha più uno buono. Quindi comunque ce l'avevo un botto. Quindi... Ma cattelta 2000? Che cos'è? Ah, riduzione. Tempo di lancio delle arti. Attacco di luce. Attivato. Incremento danni. Allora, io direi di fare questo. Una nuova arte. Conviene sempre. Perfetto, sto già senza niente. Lui non ha sbloccato niente. 600. Non ci faccio una mezza. Ok. Il pesciolino ha detto che è... Il pesciolino. Il gufetto ha detto che c'è un gufo nella zona. E lo dovremmo andare a trovare. Limoni. Non si va al nuoto? Madonna mia, si affonda. Ma non va più veloce. La modalità... Veloce. Si muoveva. Oh, ecco. Quella è il gufetto. Oh. Non ti... Calcola. E lo dovremmo andare a trovare. Perchè non va più a utilizzare la spada? Ok. Perfetto, presa. Ok, già da andare al villaggio. Perfetto. Ah, quindi c'è un altro gufetto nella zona. Sì. C'è un bel giro. L'imba? Se ce lo rispieghi, non è che ti fai male, eh. Dove sta seduto? Non si vede. Sì. 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 Una ragazza? Cosa? Cosa? Quindi questa figura del Naori è la doppia di Shion? Un po' coincidente, non è? La famiglia di famiglia è Imeris Imeris? Come in Shion Imeris? Quindi sono i miei vecchi o qualcosa? O... sono i miei? Voi credo è più bene come me All'altro che conosco è che è Neori È la persona che mi ha messo il maschio Il maschio? Ma perché? Che è il mio nome? 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 No No E questa parte di questo è quello che c'era la cera di Shion? Non lo so Quale sia lo che c'era la cera di Shion che si deve raggiungere non fuori come plane Quindi non sappiamo se siamo stati noi, o qualcun altro. E magari a un certo tipo di morte che le ho fatto, sicuramente più di questi lori, sicuramente. Ci crediamo di credere, prima il Sovereigno, poi Lenigus. Non potrebbe essere così. Ok. Che mortale. Ma tu lo sei questo? Chi non ho avuto. E' vero male che c'è Kisara. Se sei così potente perché non ce la fai abbattere due mostriciattoli del cavolo? No. questo è Vol'ron, ricordi? anche con la capacità completa è praticamente una missione di suicidio restiamo in la città fino a che siamo pronti ok, tutti? non c'è nessuno bisogna prendere un tempo per pensare ok? ma ricordate, siamo tutti qui per te se vuoi bisogno no matter how dark things might seem you're not alone, Alphen thank you it's fine all right everyone, let's break for now eh, gruppo è sciolto devo parlare di nuovo con tutti quanti due balle do I have the right to go to Shion's rescue? what do the others think? no 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 WHY Grazie a tutti. 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 Quindi è ancora lì va? E' quella sono io? Ma non mi volevi pestare due secondi fa? Cambio d'idea. Ah, è una persona. Capivo che cavolo era. Genniamo il gruppo. Vabbè, voglio vedere i poteri dal lord. Allora... Alla va... accumula abilità su abilità senza tregua proprio. Fra un po' lo finisco prima di tutti gli altri. Spugno di fuoco. Mi sa che conviene perché ora stiamo nell'acqua. Quindi dobbiamo andare sopra. La locanda... ah c'è la locanda. Ma la locanda è qua dentro. Vediamo se danno armi nuove. Allora questo per dormire... Allora... Immaginavo. Ok, adesso fammi vedere se si possono fare delle armi. Ah, accessorio. No, non me le fa fare le armi. Era questo che me le faceva fare. No? Questo è quello che fa le armi. Eccolo qua. Ehi, madonna quando ce ne sono. Oh, questo è di fuoco. Luce. Non si sa. Differente. Madonna mia. Uno cerca cinque. Eh, mi mancano. Ok. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Di vita stiamo massimo bene quindi. Hmm. Vediamo se questi... ... ... ... ... ... Puttiaqua. Interessante. E io non c'ho niente di fuoco. Allora. Allora... Torniamo a Kisara. Ma è davvero che ce li facciamo da solino Ci abbiamo bisogno di soli Ma vabbè che lo posso fare io la cura Oh Grazie a tutti. 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 Quindi... Isara sa tutto. Wait, non mi dimenticare che non abbiamo ancora trovato lui. Non è come che non abbiamo ancora trovato. Ho scoperto la lunghezza e la lunghezza della costa, ma... Alla delle altre persone sono accontati, anche noi. Ma non siamo capiti a trovare Mahavar. Il è ancora morto. I vedo. Perchè non potrebbe essere portato per abbandonare il船. Tu vuoi dire che all'interno dell'oceano? Dammit. Oppure ha salvato la nave e se n'è andato? Nel Senna Commission andiamo in giro? Alla prossima. 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 Siamo scoperta. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Sì. Alla prossima. Chissà se mi posso trasferire o no, che non ci ha fatto capire di no. Va bene. Allora ragazzi, io aiuto qui il video così nel prossimo facciamo le missioni e vediamo come andare avanti nella storia. Devo dire che senza maschera le fa leggermente cagare. E poi essendo un lord che cosa mai potrà sbloccare di Potila? Comunque Shion si è offesa che è toccata ed è fregnato per il dolore. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se volete continuare a seguire la storia iscrivetevi al canale. Ciao ciao!